And then the beat gets a... Let's go bitches! Eccoci con questo secondo episodio, in questo caso sono i perk migliori. Perché sono stati scelti i perk migliori? Bene, perché come avevo detto nel primo video vi avevo chiesto di scegliere, di votare se fare perk o armi migliori, secondo il mio giudizio personale. Quindi eccoci qui con i perk, hanno avuto visto una maggiore, diciamo, coinvolgimento da parte vostra. Comunque, iniziamo subito con la serie, ma prima voglio dirvi una piccola cosa. Vi diamo di riuscire ad arrivare almeno a 1500 like per questa serie, per questo video almeno, perché ho visto che il video di ieri di Battlefield 4 ha avuto un grande successo quando ho chiesto di mettere dei like. Vorrei vedere se mi fate questo piacere di metterlo anche in questo. Vi ringrazio molto comunque. Dunque, oltre a questo iniziamo subito con le cose serie. Partiamo subito con il primo perk. E questo qui sarà un video non stop, tutto fatto con un commentary continuo. Non mi fermerò, mi impappinerò, magari mi scorderò le cose e le dirò male, ma fidatevi, cercherò di fare le cose al meglio senza fermarmi. Iniziamo subito. Uno dei primi perk, secondo me, fondamentali è gioco di prestigio. Perché gioco di prestigio? Beh, gioco di prestigio su molte armi è una mano santa, specialmente sui mitraglioni leggeri, su un'armi che hanno un lungo tempo di ricarica, ma pure su quelli che l'hanno breve, perché è un modo veloce per ricaricare. Quindi il funzionamento del gioco di prestigio è dimezzare il tempo di ricarica. È un perk abbastanza semplice, cioè fa solo questo, non ha controindicazioni, non ha niente, quindi secondo me è uno dei perk migliori e quindi deve stare per forza in questo video. Un altro perk molto forte, uno dei miei preferiti, è Predatore, assolutamente. Ancora più forte di quello che era un Attachments, un accessorio delle armi su Black Ops 2, che era il calcio regolabile. Predatore è veramente forte, perché dà un bonus del 270% al movimento quando si mira. Un bonus veramente elevato, quando si gioca con armi che praticamente rimanete fermi, incollate a terra quando mirate, diventa una mano santa, diventate delle schegge velocissime. Poi in combo con, scusate, con Agilità, cioè, diventa una cosa incredibile, aumenta del 7% la velocità generale, quindi è un aumento veramente elevato. Comunque, oltre a questo, quindi penso che Predatore, insieme ad Agilità, debbano aggiudicarsi sempre un posto all'interno di questo video. Spero che condividiate la mia idea. Oltre a questo, parliamo di un altro perk sempre fondamentale, che è Estrazione Rapida. Allora, Estrazione Rapida è un perk molto utile su quelle che sono le armi che ci mettono tanto a mirare, ma pure in generale, perché vi consente, quando magari non state correndo, state cambiando, di mirare veramente velocemente. Quindi, Estrazione Rapida aumenta del 50% la velocità per mirare, quindi del doppio è veramente un aumento elevato. Questo perk, tra l'altro, in combo con Prontezza, che è un altro perk che sta qui in questo video dei migliori perk, detto perk 100 volte, perk, 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 che aumenta del 70% la velocità di recupero dell'arma dopo la corsa, li rende veramente due perk favolosi. Si possono usare tutte e due assieme, quindi per farli andare in combo usarne solo uno. Per esempio, io preferisco usare Prontezza in alcune armi, perché occupa solo un punto e non tre come Estrazione Rapida, ma è comunque sempre Estrazione Rapida un perk validissimo, specialmente sui fucili d'assalto. Comunque, un altro perk fondamentale che avete visto in tanti miei video, e su cui ho fatto anche una spiegazione molto precisa, è Tiratore Scelto. Allora, Tiratore Scelto aumenta del 40% i danni dei proiettili, quindi non c'entra la portata, come ho sempre detto, questo è l'unico che cambia il danno. Allora, 40% dei danni è come neutralizza bonus sui vecchi giochi, per chi ha giocato i vecchi COD, aumenta del 40% il danno. Però, Tiratore Scelto ha un fattore random, casuale, che è dovuto a una percentuale, che va in base alle kill. Come c'è scritto nella descrizione, le uccisioni consecutive aumentano la probabilità di infliggere più danni con le armi a proiettili, scusate. Cosa vuol dire questo? Che più uccisioni fate, più aumenta questa probabilità. Ma come? Quando siete a 0 kill, avete una probabilità del 12,50%, a una kill del 17%, a due kill del 33%, a tre kill del 40% e a quattro kill del 50%. Questa percentuale non sale più del 50%. Sicuramente usare, scusate, non Tiratore Scelto, Centro Perfetto, che erroraccio che ho fatto. Centro Perfetto è sicuramente un, è molto più consigliabile, cioè è più consigliabile su armi che fanno meno danno, però sparano molti più colpi, perché così avrete anche più probabilità che vi entrano diversi colpi Centro Perfetto. Comunque, passiamo subito al prossimo perk, che è Mira Stabile, secondo me si deve aggiudicare uno slot all'interno del video, perché Mira Stabile consente di ridurre le crocette di mira, quindi con molte armi si possono fare dei, diciamo, delle uccisioni tramite hipfire, senza mirare in movimento, molto veloce. Infatti, Mira Stabile e Prontezza per queste cose vanno benissimo assieme. Oltre a questo, un perk nuovo di Call of Duty Ghost è IQ. Cos'è IQ? Allora, se andiamo a leggere la descrizione, dice, il recupero della salute più veloce. Ma, cosa si intende per il recupero della salute più veloce? Bene, praticamente raddoppia la velocità di rigenerazione, su Call of Duty Ghost, devo dire che è veramente lenta la velocità di rigenerazione, quindi, secondo me, questo qui è un perk molto utile, specialmente da mettere magari in specialista, come Sciacallo, che è un altro perk da utilizzare in specialista. Un altro sempre perk utile, nuovo, di Call of Duty Ghost è Ping. Ping praticamente vi consente, ogni volta che fate una kill, di fare una sorta di onda radar intorno alla persona che avete ucciso, e quindi vedere se c'è qualche nemico nei dintorni. ed è molto utile perché molte volte vi trovate in situazioni in cui uccide un nemico, andate avanti e poi ce n'era uno magari dietro l'angolo. In questo modo potete sempre sapere cosa c'è nella zona vicino a dove avete ucciso un nemico. Se usate classi con SMG, tra l'altro, quindi mitragliette, è molto utile, quindi ve lo consiglio, magari provatelo. Un altro perk è Amplificazione, che aumenta del 50%, se non mi sbaglio, i rumori dei passi, e vi consente di sentire anche le persone che usano Silenzio di Tomba, quindi, secondo me, un perk utile, specialmente tutti contro tutti, o quando giocate in solo, quindi fidatevi, usatelo. Un altro perk che pochi usano, perché si usano alla fine poche granate letali, quando si gioca in pubblica, è Mina Vagante, però è veramente forte, perché Mina Vagante aumenta il danno delle letali, facendolo diventare letale, per letali intendo le granate, queste cose così, facendole diventare letali pure alla distanza massima. Come sapete, le granate hanno tre tipi di danno, uno che è letale, uno dal 50%, e uno dal 10%. Praticamente, sia il 50% che il 10% diventano letali, e quindi potete uccidere da qualsiasi distanza la granata, cioè, nella massima distanza d'esplosione. Comunque, se avete scudo blindato, è facilmente, diciamo, assabile, svicolabile questo perk, perché scudo blindato, non farà morire l'avversario. Comunque, spero che vi sia piaciuto questa serie, non ho aggiunto alcuni perk, magari come silenzio di tomba, come questi qui, perché, o inflessibile, perché sono perk abbastanza banali, e non penso serva una spiegazione, e comunque, questi perk, possono essere abbastanza skippabili, alla fine dipende pure dal vostro stile di gioco. Per quanto riguarda le combo, con uno specialista, allora, prima di tutto vi spiego come poter fare uno specialista a due perk, o a un perk. Allora, facciamo conto, io metto, sciacallo, che ci serve, IQ, e poi un terzo perk da un punto, perché da un punto, perché se lo mettete, che ne so, da tre, vedete, aumenta dodici bonus, il bonus di uccisioni, quindi, dovete mettere quello da un perk, che cambia a dieci. Comunque, una volta fatto questo, vi basterà selezionare gli atti perk, facciamo conto, voglio avere centro perfetto, inflessibile, e scommettitore, andare poi su braccio di ferro, e rimuoverlo, e il bonus sarà ucciso, a otto uccisioni, questo perché? Perché specialista, il minimo di bonus, è otto uccisioni. Quindi il mio consiglio è, alla fine, fare lo specialista, a un solo perk, non è utile, è sempre meglio metterne due, perché così si arriva sempre al bonus, a otto uccisioni, e non si supera otto uccisioni, quindi 11, 12, 16, eccetera, eccetera, e si possono avere due perk, da prendere subito, e dopo otto uccisioni, sbloccare subito gli atti, sono centro perfetto, inflessibile, scommettitore, spero vi sia piaciuta questa cosa. Comunque, il mio consiglio, quando siete specialista, se non avete sciacallo, tra le specialità, quelle normali, tra i perk base che avete, è di usare sciacallo subito, in modo da avere subito le munizioni, di non avere paura di spammare colpi. Il secondo perk, beh, dipende, il cui solitamente uso io, o a seconda dell'arma che sto usando, se voglio usare magari, che ne so, qualcosa come amplificazione, o intercettazione, perché perfino intercettazione, può essere usato, che secondo me è molto valido, anche se state attenti, cambia il bonus a una uccisione, quindi vi consiglio di usare quelli a due, che ne so, volete usare questo, e poi volete usare invisibile, per non essere sgamati da aereo, sistemi ora con le torrette, o se no, silenzio di tomba, o inflessibile proprio, se volete metterlo qui, bene, vi consiglio di usare due perk, da due specialità, cioè da due punti, quindi spero abbiate capito come funziona, per quanto riguarda le combo, che ci sono da usare, le combo, che possono essere messe in specialista, ma anche nei perk normali, sono sicuramente prontezza, e estrazione rapida, un'altra combo è, predatore e agilità sicuramente, un'altra è sicuramente prontezza in minastabile, e un'altra, ah, un altro molto buono, che a me piace usare, è sicuramente usare inflessibile, e abbinarlo alla serie assalto, ora non l'ho messo nel pacchetto specialista, ma questo è nei perk normali, e abbinarlo alla serie assalto, questo perché, perché se mettete il satcom nella serie assalto, vi basteranno due kill per ottenere un satcom, praticamente voi giocherete solamente con il satcom, tirando satcom a manetta, avrete praticamente un v-sat permanente, e darete una mano al team, veramente eclatante, quindi spero vi sia piaciuta questa serie, la prossima sarà sulle armi, quindi mi raccomando, seguitemi bitches, al prossimo video! Grazie a tutti!